ma che bel verso che hai fatto anche lui sta facendo il tuo stesso verso solo che lui si è infognato per un po' si ma io ho cambiato le pedivelle quando si piegano indietro un pezzettino dopo basta go up go up chi fa col tornante qua ma sei scemo ma non devi seguirmi a me la strada giunta è quella di là far rischi una vita adesso a girare dai dai no 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 vai te dai no 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 ahhh Sì, sono morto tu, sei dentro lui! che mezzo, che mezzo esagerato ho fatto quei piazzi là e mandagli a lui, tra tra dove ero Vengo? tra, no, non è vero vuoi, vuoi, io dovevo spazionare il percorso ah ecco, adesso ho avuto oh, calma, è ruso per lui grazie, se posso arrivare per chi che gli... abbiamo venuto avanti perché c'è un caro armato dove è Francesco, l'abbiamo perso Francesco non c'è più ma Francesco tu la senti? no, arriva, arriva, arriva arriva, no, 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 no no così, no, l'ha spenta l'ha spenta eh no, eh la moto del pilota tiriamolo su, su, tieni qua Francesco, muro ha finito, ha finito la benzina la moto del pilota non c'è la riserva l'ultimo traino guarda che adesso arriviamo là facciamo il lavatoio e usciamo da dietro i furgoni sì, oggi conviene del via dritto io e Simona lo facciamo dico, cazzi vostri non sapete cosa vi perdete guarda che non abbiamo finito bene, vai ciao 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 ciao